L'inizio di un nuovo anno che abbiamo già festeggiato con la solennità della Maria, madre di Dio, quindi della maternità, è non qualcosa di estraneo allo stesso mistero dell'incarnazione, cioè allo stesso Natale che abbiamo celebrato e che in questo tempo liturgico la Chiesa continua a presentare, a celebrare e a proporre alla riflessione di tutti. Dobbiamo dire che piuttosto la concezione del tempo, che oggi ha tante sfaccettature, molti vedono il tempo come qualcosa che ti schiaccia, come qualcosa che passa, il tempo come qualcosa che ti invecchia, molti vedono il tempo semplicemente come dicono gli inglesi, time is money, cioè il tempo come soldi, il tempo come guadagno. È chiaro che queste concezioni del tempo di cui siamo schiavi e non ci aiutano a cogliere il tempo che invece la nostra fede ci vuole proporre come un kairos. Che cos'è il tempo come kairos? Il tempo come kairos è un tempo appunto opportuno in cui noi possiamo cogliere la grazia del Signore, in cui possiamo vivere ogni giorno quel Natale dell'anima, quel Natale mistico di cui abbiamo accennato qualcosa proprio nei giorni tipici, nei giorni particolari di Natale e del dopo Natale. Quindi il tempo come dono di Dio, il tempo come opportunità di Dio, e non come qualcosa che viviamo in maniera passiva. Il tempo è qualcosa che fugge, come dicevano i latini, che passa. Ma quell'attimo vissuto, quando è vissuto come dono, quando è accolto come opportunità di incontro, di grazia con Dio e con i fratelli, è un tempo appunto che ci aiuta a essere noi stessi, che ci aiuta a vivere il tempo della nostra fede. Paolo VI scriveva che il tempo per essere vissuto in maniera eterna, appunto, deve essere imbevuto di eternità. E che cosa vuol dire che dobbiamo riempire il tempo di eternità? Vuol dire semplicemente una cosa, riempire il tempo di amore, riempire il tempo di Dio, riempire il tempo di buone azioni, riempire il tempo di carità, riempire il tempo di relazione quotidiana con il Signore. Questo significa riempire il nuovo anno di un valore eterno. Quando, per esempio, in quest'anno noi saremo chiamati a sforzarci a dare senso ai nostri giorni, ricordiamoci che l'eternità ci viene anche dall'amore che viviamo con il marito, piuttosto che con la moglie, piuttosto che con i figli, o dall'amore che viviamo con i nostri amici. L'amore è certamente un valore eterno che dà eternità al nostro tempo. Ci vediamo domani. Parli più a TV, dritto al cuore. Ciao a tutti. Grazie a tutti.